Io no, pensavo cagano un scemo, no? No, Aida, Aida chi? La signorina che è passata poco fa? Quella non era Aida, quella era Aida Quella è Aidi o un'altra? Quella è Aidi Ok, salvatemi per favore perché è da ricovero qui io con tutte e due Ok, ho bisogno di aiuto, va bene Ce la possiamo fare sicuramente Va bene, ne lasciamo il microfono Ok, signori il nostro ospite Grazie di tutti e noi abbiamo bisogno per il nostro ospite a sorpresa La giusta atmosfera, è corretto? Mi posso congedare da lei, signor ospite? Si congede, si può congedare E poi il ritorno In un paese diviso Più nero ne spiso Più rosso d'amore Aida Come c'è bella Come c'è bella Ma quindi non era l'Aida di Giuseppe Verdi? Era un'altra Aida A mia amica chiamano Russietto, no? Ah, Verdi no Ah, dice qua, giustamente Qua non si vede niente perché si aspettava le parole Ora è nato il problema che la versione in karaoke è stata aperta Anche per me è un no Ma questo ti deve portare Cioè con questo che ti diciamo Devi andare avanti e impegnarti ancora di più Per me è un no Il presidente è l'ultimo Mi dispiace per me è un no Diciamo che non può fare grandi cose Il presidente Con quattro anno non può sapere proprio niente Mi dispiace Vabbè, però noi Mi dispiace per me è un no Mi dispiace per me è un no